Oggi incontreremo Andrea Valbonesi, siamo nella palestra del Medical Center Fisioradi, vedete seduti su una macchina utile per la riabilitazione. Andrea Valbonesi è un grande conoscitore delle terapie e soprattutto delle patologie del ginocchio, parliamo di menisco, parliamo poi di condropatia, quindi ci introdurrà davvero in una materia complessa che molto spesso non si conosce, si sente parlare tanto di menisco, ma poi fondamentalmente tanti di noi non sanno esattamente che cos'è. Andrea Valbonesi ci aiuterà a capirne di più. Ed eccoci qua con Andrea Valbonesi, fisioterapista, buonasera a te. Buonasera, buonasera a tutti. Parleremo di ginocchio, parleremo di meniscopatia, condropatia, ma ovviamente la prima domanda che ci viene spontanea a fare ad Andrea, di cosa si tratta quando si parla di menisco? Che cos'è il menisco? Allora, il menisco è una struttura fibrocartilagina apposta, diciamo all'interno dell'articolazione del ginocchio, tra i condili femorali, quindi la parte distale del femore, e il piatto tibiale. Menisco si può differenziare in menisco interno e menisco esterno. Il menisco interno ha una forma AC, mentre il menisco esterno è leggermente più chiuso, quindi diciamo una forma AO, leggermente AO. Sono delle strutture fibrocartilagina che servono per flesso estendere la gamba e soprattutto per attutire i traumi sull'articolazione del ginocchio, ma soprattutto per distribuire il peso del nostro corpo in modo equilibrato sia sul menisco interno che sul menisco esterno. Quindi sono delle strutture principalmente ammortizzanti. Ecco, infatti mi veniva da fare il parallelismo con gli ammortizzatori della macchina. Esattamente. È come se insieme i menis... Attutiscono tutti gli urti, tutti i possibili vari traumi che avvengono all'interno del nostro ginocchio. Chiaramente sul ginocchio appoggia gran parte del peso del corpo, poi il ginocchio è un'articolazione molto mobile, molto sottoposta a movimenti anche imprevedibili e quindi ovviamente i menischi hanno proprio questa funzione di equilibrare i movimenti. Esattamente, sì. E delle volte capita che ci si ritrovi con dei problemi al menisco, per un trauma, per un qualcosa, ma e quindi se dovessimo definire la meniscopatia? Per meniscopatia, diciamo, è un termine che in medicina si utilizza soprattutto per classificare, diciamo, varie problematiche legate ai menischi, che possono essere da delle semplici infiammazioni a delle lesioni. Quindi meniscopatia principalmente sono delle lesioni a carico dei menischi e possono essere di natura traumatica o di natura degenerativa. Ovviamente la natura degenerativa, come ben sappiamo, col passare degli anni, insomma, andando avanti con l'età, come in qualsiasi altra articolazione del nostro corpo, il ginocchio anche può, diciamo, andare incontro a delle problematiche, soprattutto i menischi possono degenerarsi, quindi possono danneggiarsi, mentre, diciamo, una normale infiammazione del ginocchio può anche essere una condropatia di, diciamo, lieve entità, ma la problematica maggiore, correlata, diciamo, all'articolazione del ginocchio interno a carico dei menischi è una meniscopatia che può essere anche traumatica, a livello degli sportivi soprattutto, quando noi, non so, sportivo subisce un trauma diretto o indiretto, può esserci, appunto, anche una torsione a livello del ginocchio, in questo caso possiamo avere delle lesioni meniscali. Esatto, quindi l'aspetto traumatico è importante, soprattutto negli sportivi, nei giocatori di calcio, e tante volte abbiamo sentito di giocatori che sono stati costretti a operarsi, ad abbandonare il gioco, a operarsi, esatto. Addirittura ci fu un calciatore famosissimo che vinse il Mondiale con l'Italia, Paolo Rossi, che aveva tre menischi su quattro, eppure giocava a quei livelli. Diciamo che, esatto, tanti anni fa fu un episodio, diciamo, incredibile, perché, appunto, giocare in determinate condizioni, con delle problematiche correlate al ginocchio, con dei segni di, magari, di meniscopatie e tant'altro, sono riusciti comunque a farlo giocare. Ovviamente nel corso degli anni i trattamenti, le metodiche di interventi chirurgici, sono cambiate, sono migliorate, sono diventate meno invasive, però, appunto, se noi pensiamo a trent'anni fa e a come venivano, diciamo, trattate quelle patologie in quei casi lì e riuscire a mettere in piedi un giocatore nel pochissimo tempo, tanto di cappello, insomma. La sintomatologia, quando è che ci accorgiamo di avere un problema al menisco, in seguito o meno ad un trauma, o magari anche una semplice condropatia? Allora, se le possiamo accorgere, semplicemente quando il paziente magari viene da me e mi dice, Andrea, sento dolore quando flesso estendo la gamba, il ginocchio, sento come una puntura dentro l'articolazione, che può essere, magari, più interna o esterna, quindi questo può essere correlato a una meniscopatia o comunque a un danno ai menischi. Dopo, tramite test specifici, ovviamente, puoi vedere, puoi andare a capire meglio se magari è la componente dei menischi oppure se può essere una componente legamentosa. Però, in genere, il paziente lamenta dolore sopra la rotula quando si tratta magari di contropatia, o può esserci un leggero gonfiore anche sovrarotuleo, e quindi qui possiamo parlare di contropatia femoro-rotulea. Di solito, la problematica, chi ha problemi ai menischi, appunto, sente come una puntura, un pizzico all'interno del ginocchio. Ci sono vari gradi o entità di lesioni, appunto, meniscali. Ovviamente, in una lesione a manico di secchio del menisco, il paziente sente proprio un blocco articolare, quindi non riesce proprio a piegare, neanche pochi gradi il ginocchio, a estendere completamente la gamba. Quindi, al di là magari del primo approccio, qualche terapia farmacologica, eccetera, si prova a combattere l'infiammazione e il dolore, poi subentra la fase di fisioterapia. E non a caso, questa struttura è proprio un punto di riferimento per trattare questo tipo di lesioni. Noi qui, da Fisioradi Medical Center, diciamo, abbiamo la fortuna di intraprendere un percorso completo da questo punto di vista, perché possiamo partire, ovviamente, nel trattamento di queste lesioni qua. Si parte sempre da un trattamento conservativo. Poi, in base a una diagnosi corretta, appunto, fatta sempre da un medico specialista, appunto, in questo caso dall'ortopedico, si può poi variare, diciamo, il percorso riabilitativo, ma si parte sempre da un percorso riabilitativo conservativo, che comprende percorsi, appunto, si parte con la fisioterapia strumentale, elettromedicale, quindi, a un percorso di idrochinesi terapia in acqua, per finire in palestra il percorso di riabilitazione per tonificare la muscolatura. Questo da un punto di vista conservativo. Se, invece, il medico specialista ortopedico decide, o comunque valuta il caso del trattamento chirurgico, ovviamente, si farà un intervento, però, prima dell'intervento, è sempre molto indicato fare una riabilitazione preoperatoria per mantenere un trofismo muscolare buono, di modo tale che, dopo l'intervento, il paziente recupera in minor tempo. Esatto, infatti, l'aspetto muscolare è importantissimo, mantenere il tono muscolare, mantenere il muscolo in grado di supportare, per certi versi, l'articolazione è quello che si vuole raggiungere, insomma. Bravissimo. Cioè, il muscolo va a sopperire, magari, alla problematica dell'articolazione, ad aiutarne, soprattutto, la guarigione, la fase. Bene, Andrea, grazie per questo discorso interessantissimo riguardante il ginocchio, il menisco, le quadropatie, questi dolori che tanto spesso ci attanagliano a tutti. Ti ringraziamo davvero, sei stato molto, molto chiaro e molto esaustivo nella tua... Grazie mille a voi, è stato un piacere. Buona serata, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie mille a voi.